nel tutorial precedente dedicato alla color abbiamo visto un possibile flusso di lavoro e la prima parte riguardava la correzione primaria e il primo intervento sulla correzione primaria riguarda la normalizzazione quindi oggi vedremo un esempio di normalizzazione utilizzando gli strumenti che abbiamo già visto all'interno della color page quindi prendiamo questa clip e andiamo a controllare se ha bisogno di interventi di normalizzazione allora prendiamo il nostro nodo nel node editor tasto destro node label e lo chiamiamo normalizzazione quindi cominciamo a dare un po di ordine all'interno del node editor poi andiamo ad aprire gli scopes e a noi interessa il waveform quindi accendiamo la forma d'onda andiamo nelle impostazioni della waveform andiamo a togliere il colorize per concentrarsi solamente per quanto riguarda la luce e il contrasto come possiamo vedere l'immagine è già tanto contrastata è clippata vedete che ci sono delle linee orizzontali è un'immagine che ha già perso dettagli sulle alte luci ci prendiamo però un po di punti di riferimento quale potrebbe essere un buon standard di normalizzazione cioè io devo fare in modo di non andare sopra il 1023 e andare sotto lo zero perché in quel caso io perderei tutti i dettagli ma voglio stare un po sopra lo zero e un po sotto il 1023 per avere dei margini di manovra allora sopra lo zero vuol dire che i neri li devo spingere un po più in alto in modo da arrivare circa al 10 per di questa scala quindi devo stare intorno diciamo al 100 come valore utilizzando la scala di sinistra stessa cosa per quanto riguarda i bianchi conviene stare sempre intorno al 10 per cento sotto e questa è una buona regola perché ci teniamo questo margine per i cosiddetti super bianchi super white che sono quei bagliori quei riflessi metallici che possono andare a spingere i bianchi oltre poi abbiamo un altro punto di riferimento che è la luce del colore della pelle devo fare in modo che la luminosità della pelle stia a seconda dei due picchi alla luce in un intervallo tra il 50 e il 75 per cento di luminosità cioè il colore della pelle deve stare dentro questo intervallo possibilmente quindi tra i 512 e i 768 in condizioni chiaramente standard poi le immagini vivono di vita propria ognuna quindi le valutazioni vanno fatte in funzione del tipo di clip che ho a disposizione quindi guardando questa clip diciamo che il contrasto già c'è devo sistemare un po i punti di nero perché sono molto bassi allora vado sulle color wheel quindi se non le hai aperte vai a cliccare sul color wheel e l'importante è che hai selezionato le primaries wheels quindi cliccando sul pallino centrale di sinistra allora questi comandi li abbiamo già visti le lift controllano le basse luci la gamma i mezzi toni e il gain controlla le alte luci l'offset è un controllo generale di tutte e tre cioè modifica tutta l'immagine contemporaneamente oggi utilizzeremo per fare la normalizzazione unicamente la master wheel che è bella rotellona che troviamo sotto ogni ruota colore quindi se devo andare a sistemare la parte delle ombre vado prendere la master wheel del lift e la tiro su per arrivare circa un livello di picco intorno ai 100 come puoi vedere la parte nera di questa immagine probabilmente siamo vedete nell'area più scura dell'ombra di questo quaderno che c'è sul tavolo quindi devo fare in modo che comunque i dettagli dell'ombra siano ancora visibili e abbia del margine di manovra per quanto riguarda il gain qui non posso fare molto sono già al limite e contrasti diciamo che ci sono potrei anche portare su leggermente i mezzi toni perché magari in alcune zone li vedo un pochino scuri vado sulla gamma e vado a ritoccare un po' i mezzi toni sto portando sull'immagine quindi per dare un po' di luce al volto ma mi si alzano anche le lift in parte quindi in questo caso riporto indietro un po' le lift adesso io potrei andare a giocare anche con i contrasti quindi vado a prendere il mio contrasto e posso dire guarda lo voglio stringere un pochino stringo un pochino il contrasto e poi se voglio andare a spostare la regolazione del contrasto più verso le luci o più verso le ombre perché vedo l'immagine un po' più scura o un po' più chiara ad esempio adesso la vedo un po' più scura vado a prendere il pivot che non è altro che il bilanciamento della regolazione di contrasto che ho fatto quindi andando verso destra io sposto il bilanciamento del contrasto più verso le luci se vado verso sinistra sposto il bilanciamento del contrasto più verso le ombre quindi adesso mi voglio spostare verso le luci quindi aumento il pivot e vedete che i punti massimi delle highlights sul waveform si stanno spostando e stanno ritornando in posizione ecco questo potrebbe essere una buona normalizzazione piccoli interventi da fare sulla clip ma che comunque mi hanno portato a un valore più o meno standard se voglio vedere il prima e il dopo faccio un ctrl d questa è un'immagine molto tirata verso le aree scure questa è un'immagine più neutra quindi sarà più adatta per essere poi lavorata anche in grading senza andare a distruggere diciamo la parte bassa che era già molto accentuata ecco tutte queste regolazioni più o meno si possono adottare tutte le clip cioè il procedimento è lo stesso potrai dover intervenire a ritroso su più regolazioni per andare a sistemare correttamente la curva della forma d'onda se hai delle domande su come procedere alla normalizzazione ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial all'interno del canale